Buonasera, siamo qui con Giuseppe della SS Tori. Allora Giuseppe, è stata una partita un po' combattuta, equilibrata fino a un certo punto, nel senso che lo stavate pareggiando, poi sono andati in vantaggio, in vantaggio, ma alla fine... Ci siamo trovati in primo tempo, piuttosto in difficoltà anche perché abbiamo trovato poco, diciamo, gli automatismi tra di noi, però siamo riusciti poi a raddrizzare la situazione e abbiamo vinto. Alla fine, quindi speriamo che la prossima sia... Sì, credo che la prossima partita sarà molto meglio, anche perché iniziamo a conoscerci meglio tutti quanti. Perfetto, alla prossima! Alla prossima!